Ciao amici di Effetto Farfalla, siamo finalmente in viaggio e siamo già in ritardo. Mi trovo a Stoccardo in questo momento, ci siamo fermati qua per la notte e adesso siamo pronti a ripartire. Mancano qua mille chilometri alla nostra meta quindi oggi dobbiamo darci dentro e correre a più non posso verso la Danimarca. Però oggi è un giorno importante perché è il compleanno della mia compagna di viaggio Valeria, quindi tanti auguri Valeria e corriamo con il camper di Effetto Farfalla, Effetto Farfalla Adventure.